Che siano semplicemente delle scatole vuote utilizzate a scopo deterrente lo ammette la stessa amministrazione comunale. Non è mai stato un mistero d'altronde che i quattro Velobox acquisiti nel 2015 per oltre 8.000 euro ed installati in via Falcone a Trani siano dei contenitori senza nulla al loro interno. E' la polizia locale che decide di volta in volta se e quando posizionare in uno solo di esse un rilevatore di velocità che supporti gli agenti nelle attività di sanzione degli automobilisti che percorrano via Falcone superando il limite dei 50 km orari. Per il consigliere comunale Emanuele Tomasicchio ci sono diversi punti oscuri nell'acquisto ed utilizzo dei quattro Velobox da parte del comune che renderebbero evidente il raggiro dei cittadini e lo spreco di denaro pubblico. Sappiamo benissimo che i Velobox sono semplicemente le scatole che devono contenere l'autovelox e loro dicono noi abbiamo preso quattro scatole e un autovelox che viene spostato di volta in volta perché i cittadini non devono sapere dove sta. Al di là del fatto che a me fa specie un modo di procedere di questo tipo per cui io devo ingannare i cittadini per poter rimporre il rispetto delle regole e usando il denaro pubblico. Ma al di là di questo, questa è la determina, scusate ma devo devo chiedervi di inquadrarla, in cui il comune delibera di acquistare quattro apparecchi di rilevamento della velocità Velobox. Significa che non sono le scatole, ma se sono apparecchi di rilevamento della velocità non sono scatole, sono apparecchi che rilevano la velocità e sono quattro. Quindi hanno comprato quattro scatole o quattro rilevatori della velocità? Non lo sanno neanche loro. Come confermerebbe una recente sentenza della Cassazione, i quattro Velobox non potrebbero essere posizionati in via Falcone. I rilevatori della velocità, anche se uno solo è contenuto in una delle quattro scatole messe lungo via Falcone, non possono essere messe in un centro, in una strada urbana, salvo che non ci sia la pattuglia subito dopo per contestare immediatamente la infrazione. La pattuglia non c'è e non c'è mai stata. Quindi quei Velobox non potevano essere messi. L'unica eccezione che si può fare, dice la Cassazione, è se la strada urbana è una strada urbana a scorrimento veloce. Ma via Falcone non rientra in questa tipologia di strade, perché la strada urbana a scorrimento veloce deve avere due corsie per senso di marcia, che devono essere divise da uno spartitraffico e che lateralmente devono avere banchine e marciapiedi. Quindi i Velobox non potevano proprio essere messi, perché altrimenti avrebbero dovuto mettere le pattuglie. Allora hanno speso del denaro pubblico per una cosa che non serve assolutamente a niente. L'amministrazione comunale difende l'utilizzo dei Velobox operato sino ad oggi, ma delle sanzioni combinate agli automobilisti indisciplinati, conclude Tomasicchio, non vi è traccia da nessuna parte. A giugno 2018 ho presentato un'interrogazione con la quale chiedevo, scusatemi, sono passati quasi tre anni da quando avete messo i Velobox, posso sapere quante multe avete fatto e quanti soldi avete incassato? Ho chiesto la risposta scritta, ho fatto l'interrogazione senza l'articolo 328 del codice penale, per cui avrebbero dovuto rispondermi tassativamente dentro 30 giorni, nessuna risposta.